Buongiorno Anna e Bertina, ho portato i miei figli alla scuola. Andiamo che si fa tardi, eh? Andiamo Pinocchio. Mastro Ciliegio, ah! Proprio voi c'è il capo, guardate! Questo è il pezzo di legno che mi avete regalato. Buongiorno. Bravo Pinocchio. Ho fatto un capolavoro, si chiama Pinocchio. E mi figliolo? Ciliegio? Ciliegio? E mi figliolo? Ciliegio? L'avete bevuto, eh? Vabbè, arrivederci Ciliegio, dovete bere meno, eh? Andiamo Pinocchio, su, si va a spazio. Pinocchio, che c'è? Papo, ma che c'è là? Come che c'è là? Quello è il teatro dei burattini, ci sono i tuoi fratelli. Burattini come te, anzi, non come te, perché te sei più bello di tutti. Andiamo, dai. Ma che fanno? Ma fanno burattini, si divertono, fanno ridere la gente. Dai, ora andiamo a scuola. Prima studi e dopo forse ci andiamo. Su, andiamo a scuola. Ecco. Ciao, ciao Pinocchio. Ciao, babbo. Devi essere il più bravo di tutti. Me lo prometti? Ciao. Ciao, figliolo mio. Ciao. Portate il mio figlio a l'escola. Ciao.